In questa lezione studieremo il teorema di Gauss per il magnetismo. La lezione è suddivisa in quattro sezioni. Nella prima ripasseremo la definizione di flusso del campo elettrico. Nella seconda ricorderemo l'enunciato del teorema di Gauss per il campo elettrico. Nella terza varieremo la definizione di flusso adattandola al caso del campo magnetico. Ed infine dimostreremo il teorema di Gauss per il campo magnetico. Questi argomenti si trovano trattati in maniera molto completa sul libro a pagina 921 nel paragrafo 5. Cominciamo quindi con la definizione di flusso del campo elettrico. Consideriamo una superficie S piana inserita all'interno di un campo elettrico uniforme. Come sappiamo il campo elettrico è sempre tangente alle linee di campo dunque interessa la superficie secondo questo orientamento. Invece la superficie può essere rappresentata mediante un vettore superficie che ha la caratteristica di essere sempre perpendicolare alla superficie e avere una lunghezza proporzionale all'area della superficie. Indichiamo questo come vettore S, vettore superficie. Il verso del vettore S è arbitrario. Ricordiamo che si definisce flusso del campo elettrico attraverso la superficie piana S il prodotto scalare del vettore campo elettrico per la superficie. Vi ricordo che i prodotti scalari si risolvono, essendo operazioni fra due vettori che danno come risultato uno scalare, si risolvono moltiplicando il modulo del primo vettore, il campo elettrico, per il modulo del secondo, la superficie, per il coseno dell'angolo compreso fra i due vettori, che in questo caso è questo angolo alfa. I limiti di questa definizione sono due. Si applica solo a regioni in cui il campo elettrico è uniforme, cioè ha lo stesso valore su tutta la superficie, e si applica soltanto a superfici piane. Sappiamo però che è possibile generalizzare questa definizione. Se ad esempio avessimo a che fare con una superficie non piana e una regione di campo elettrico non uniforme, sarebbe sufficiente suddividere la superficie in tanti tasselli che godano di quelle due proprietà. Primo, che il tassello sia assimilabile a una superficie piana. Secondo, che il campo elettrico sia uniforme su quella piccola regione. Indicando quindi con delta SI, l'iesima superficie in cui è stata suddivisa la superficie non piana, e indicando con E con I, il vettore campo elettrico che interessa quella regione, noi definiamo flusso del campo elettrico attraverso la generica superficie S come la sommatoria per I che va da 1 a N dei prodotti scalari e con I scalare delta SI. Quindi in pratica calcoliamo il flusso elementare attraverso ogni tassello di superficie, poi sommiamo tutti i contributi al flusso. Questo vale anche quando la superficie è chiusa. In presenza di una superficie chiusa però sappiamo che vale una convenzione che afferma che suddividendo la superficie in porzioni assimilabili a superfici piane, il verso con cui si rappresentano queste porzioni è sempre quello che esce dalla superficie. Quindi la superficie delta SI ha convenzionalmente il verso uscente perché fa parte di una superficie che racchiude uno spazio chiuso. Bene, detto questo ricordiamo allora il teorema di Gauss per il campo elettrico. Sarà più corretto dire il campo elettrico statico che quello che abbiamo studiato finora anche se per adesso non ne apprezziamo il significato. Il teorema di Gauss che abbiamo dimostrato afferma che il flusso del campo elettrico attraverso una qualunque superficie chiusa, che indichiamo con la lettera ω, è direttamente proporzionale alla carica totale interna alla superficie e dipende dalla costante dielettrica del mezzo nel quale le cariche sono immerse. Passiamo così alla definizione di flusso del vettore campo magnetico. Beh, chiaramente la definizione è mutuata da quella di campo elettrico e quindi noi definiremo flusso del vettore campo magnetico sappiamo che lo si indica con la lettera B, attraverso una superficie piana S il prodotto scalare B scalare S. Il limite di questa definizione vale per campi magnetici uniformi e per superfici piane. Se così non fosse, avessimo a che fare con una superficie S non piana, allora il flusso del campo magnetico attraverso la generica superficie S si potrebbe calcolare come la sommatoria su I di B con I scalare delta SI. Essendo delta SI le superfici dei tasselli piani in cui la superficie S è stata suddivisa e questo vale ovviamente se abbiamo a che fare anche con una superficie chiusa. Nel qual caso però indichiamo la superficie con una lettera greca maiuscola, ad esempio omega, come in questo qua. Quindi è una sommatoria su I di B con I scalare delta SI. Come nel caso elettrico, se il campo magnetico è uscente dalla superficie, se il campo magnetico è uscente dalla superficie, cioè le linee del campo magnetico escono dalla faccia positiva, l'angolo alfa è acuto e quindi il flusso è positivo, quindi le linee di campo magnetico uscenti danno un contributo positivo. Se invece il campo magnetico entra nella faccia positiva, in questo caso alfa è ottuso e quindi il contributo di questa piccola regione al flusso sarà un contributo negativo. Eccoci così al teorema di Gauss per il campo magnetico. Il teorema di Gauss per il campo magnetico afferma che il flusso del campo magnetico attraverso una qualunque superficie chiusa omega è sempre pari a zero. Teorema semplicissimo da ricordare, il cui significato è però profondo. Facendo riferimento al teorema di Gauss per il caso elettrico, dicevamo che il flusso del campo elettrico attraverso la superficie dipendeva dalla carica totale interna alla superficie. Se la carica totale fosse stata positiva, ci sarebbe stata una prevalenza di linee di campo uscenti dalla superficie e quindi un contributo positivo al flusso. Nel caso di una carica totale negativa avremmo avuto una prevalenza di linee di campo entranti e quindi un contributo negativo al flusso. Ragionando sul caso magnetico, noi sappiamo che una delle principali differenze tra campo magnetico ed elettrico sta proprio nella impossibilità di suddividere i poli nord e sud. Dunque all'interno di una qualunque superficie chiusa ci saranno sempre altrettanti poli nord quanto sud. Ho detto in altri termini, le linee di campo uscenti saranno sempre compensate dalle linee di campo entranti. E questo è il motivo per cui il teorema di Gauss, per il caso magnetico, dà questo semplice risultato. Vediamo la dimostrazione sul libro. Ci sono delle belle illustrazioni, quindi partiamo proprio dal libro. Nel caso elettrico ricorderete che la dimostrazione del teorema di Gauss l'avevamo fatta partendo dalla carica elettrica puntiforme che era il caso più semplice di sorgente di campo elettrico. In questo caso il più semplice caso di sorgente di campo magnetico è il filo rettilineo percorso da corrente. Dunque noi consideriamo un filo rettilineo percorso da corrente verso l'alto. Sappiamo che questo filo genera in un piano trasversale delle circonferenze concentriche il cui verso è determinato dalla regola della mano destra. Stante questa simmetria, la figura di superficie gaussiana più adatta è in questo caso il cilindro. E dunque noi calcoleremo il flusso attraverso una superficie cilindrica il cui asse coincide con il filo. Ovviamente ci sono due situazioni, le superfici laterali e le superfici di base. Guardando la superficie laterale, notiamo che ogni tassello della superficie laterale che è caratterizzato da questo vettore delta S1 in questo caso presenta il vettore superficie perpendicolare al campo magnetico. Infatti il vettore superficie è radiale, mentre il campo magnetico è tangenziale. Dunque si forma un angolo di 90 gradi fra B1 e delta S1 ma anche fra B con I e delta S1, qualunque sia il tassello su questa superficie per cui il contributo della superficie laterale al flusso è nullo. Veniamo alle due basi, superiore e inferiore. In questo caso si potrebbe pensare che essendo le basi piane si possa ragionare sulla base intera caratterizzandolo con un unico vettore superficie. Non è così perché sappiamo che anche se la superficie è piana se però il campo magnetico non è uniforme bisogna suddividere in tasselli questa superficie e questo è il caso perché il campo magnetico come sappiamo è più intenso vicino al filo e è più debole lontano dal filo. Quindi consideriamo un generico tassello qui lo chiama delta S2, avremmo potuto chiamarlo delta Sj lo rappresentiamo con il suo vettore superficie ma notiamo che anche questo vettore superficie è perpendicolare al vettore campo magnetico passante per quel tassello e questo succede su tutta la superficie superiore e su tutta quella inferiore. Risultato, sia la superficie laterale sia le superfici di base non danno alcun contributo al flusso e quindi il teorema di Gauss essendo quest'angolo fra i vettori sempre di 90 gradi porta necessariamente a zero. Dunque, cosa possiamo dire? Riepilogando che il teorema di Gauss nel caso del magnetismo esprime sostanzialmente il fatto che non è possibile ottenere i poli magnetici isolati mentre nel caso elettrico era possibile avere una prevalenza di carica positiva o negativa all'interno della superficie nel caso del campo magnetico non è così le linee del campo magnetico sono sempre o linee chiuse o linee che iniziano e finiscono all'infinito e dunque il numero di linee entranti e loscenti quindi il loro contributo al flusso si compensa sempre e dunque chiudendo ancora il flusso del campo magnetico attraverso una qualunque superficie chiusa omega è sempre nullo grazie 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 grazie